Ciao Paci, ciao Cagliostro, sono il vostro inviato segreto Alain Grà e qui accanto a me ho trovato questa ragazza nel parco perché mi vuole raccontare una bella barzelletta. Ciao, come ti chiami? Benedetta. Benedetta, bene. Ce la racconti una barzelletta? Fa anche rima? Per forza, per forza. Allora, c'è Pierino che nel bosco incontra un signore vestito di nero, tutto bianco in volto e spaventato dall'accaduto precedente dice Oh mio Dio, un serpente mi ha morso Il signore gli dice Guarda, basta, c'è una soluzione Bisogna succhiare il sangue per estrapolare il veleno Ah, grazie, signor Dracula Pronto? Sì Amore, ciao No, senti, allora dovresti venire immediatamente qua perché c'è uno qui che mi sta importunando Sì, mi vuole invitare a cena Sì, no, sbrigati Sì, 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 va bene, glielo dico Ok, va bene, ciao Ma scusa, come ti sto importunando? Si stava parlando di barzelletti Mica ti sto dando noia No, no, allora ti conviene innanzitutto evitare di finire con qualche frattura e cominciare a correre Perché il mio fidanzato è campione europeo di lotta libera Anche lui Certo Vabbè, ciao Paci, ciao Cagliostro